Si respirava un'aria di assoluta normalità stamattina in via Ferrari a Campobasso. Difficile credere che ieri sera verso le 20 e 30 proprio in questa strada dove tanti orrefici hanno la loro attività si sia verificata una rapina a mano armata. Ad essere presa di mira una gioielleria all'angolo della strada. Stamattina la titolare è tornata a svolgere il suo consueto lavoro ma senza però qualche difficoltà. Sul suo viso sono ancora visibili i segni della terribile esperienza. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni al microfono sono ancora scioccata. Si immagini da sé come posso stare ha detto mentre risistemava le vetrine e il bancone per poter riaprire la saracinesca come se nulla fosse accaduto. E invece qualcosa è accaduto davvero anche se i titolari delle attività vicine oggi sbalorditi ammettono di non essersi accorti di nulla. Nessuno ha visto entrare nella gioielleria quattro persone due donne e due uomini con forte accento campano tutti a volto scoperto e senza guanti. Nessuno ha sentito rumori sospetti eppure i quattro una volta dentro pistole in pugno hanno intimato i titolari di consegnare denaro e gioielli. Un bottino ingente decine di migliaia di euro. I quattro poi si sono separati e sono fuggiti a piedi nelle strade adiacenti e il titolare della gioielleria presa la sua pistola detenuta legalmente ha inseguito una delle due donne, una giovane di 28 anni che stava correndo giù per la scalinata di via Garibaldi. L'orefici ha sparato un colpo in aria poi la pistola si è inceppata. La ragazza è caduta e così è stata arrestata dai carabinieri e portata in caserma per l'interrogatorio durato tutta la notte. E proprio dal lungo interrogatorio e dall'esame delle videocamere di sorveglianza posizionate nell'oreficeria potrebbero essere scaturiti dati interessanti per le indagini per acciuffare il resto della banda e recuperare il bottino. Al momento quello che si sa è che si tratta di pregiudicati campani. La 28enne non aveva con sé effetti personali o un cellulare ma i militari stanno passando al setaccio tutti i suoi contatti e le sue frequentazioni abituali per ottenere dati utili. Stamattina è stata trasferita al carcere di Foggia. Il PM Fabio Papa che sta coordinando le indagini ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura a cautelare in carcere in attesa dell'interrogatorio.